Ti conosco questa mania? La signora della mattina la vede un pochettino diversa da cui viene presentata. È fatta apposta? Mi sembra. Allora glielo spiego. Questo progetto si chiama Ogni donna una Madonna. Ed è nato dopo che un ragazzo dopo avermi messo le mani addosso mi ha detto Emma tu hai ripetita così. Allora io ho pensato ho messo così la Madonna. Voglio vedere se secondo te è meno sacra. Ho sentito questa pressione insostenibile e ho deciso di scrivermi a un corso di grafica per provare a realizzare queste immagini che avevo nella mente. Questo tipo di immagini le ho create spinta ovviamente da un po' di rabbia perché avevo bisogno di riaffermare soprattutto gli occhi di me stessa che non è un pezzo di abbigliamento o una scollatura a cambiare la sacralità di una persona o di una donna. E poi c'è una parte insomma importante. Mi ha sempre infastidita la storia della Madonna come la si racconta ai ragazzini soprattutto. A me e al catechismo hanno raccontato che la Madonna era una ragazza brava, tanto brava, talmente brava che Dio ha deciso di metterla incinta e lei certo è rimasta sorpresa però poi ha deciso di caricarsi questo fardello, una creatura completamente assoggettata a quello che le capitava. Quando poi in realtà studiando si scopre che la figura della Madonna è molto più complessa e forse viene banalizzata per i ragazzini, semplificata, però insomma è sicuramente la mamma di tutte le mamme, è una figura super ricorrente che tu sia cattolico o no da adulto nella tua vita è sempre presente ed è sempre molto velata, sempre molto casta e praticamente sempre in silenzio, spesso raffigurata piangente o triste. Nel momento in cui io metto una scollatura su una donna sacra sto bestemmiando. Oh è ancora lì! Chi rendi conto? Eppure è lei quella sacra, la più sacra di tutte. Allora l'obiettivo in realtà non era portare lei a livello terreno ma innalzare tutte quante. Quindi in realtà l'ho fatto anche con un po' di rabbia verso me stessa perché in quella situazione non ho forse combattuto sin dall'inizio, non sono stata così pronta a difendermi da quella situazione. Avevo bisogno di elaborarla. Un basso. Ogni donna una madonna è un progetto anonimo perché man mano che queste decine, se non anche un centinaio o qualcosa di donne mi hanno raccontato le loro esperienze ma dicendomi anche non l'ho mai detto a mia madre o non ho mai denunciato, mi ha fatto pensare che alla fine è più giusto che le persone vedano se stesse all'interno di queste immagini. Ed è anche sicuramente una responsabilità. Dopo che ha cominciato a girare sui social sono arrivati i primi articoli in cui ovviamente si pensava che io fossi uno street artist maschio che godeva nel fare blasfemia sui muri di Napoli. Ho rilasciato insomma il racconto di quello che significavano per me e di come sono state create. E poi in quel momento mi sono arrivate non so quante manifestazioni di solidarietà ho anche confessioni di tante donne che io nemmeno conoscevo. Cioè io ho avuto una ragazza tedesca che mi ha detto io mi sono sentita protetta mentre camminavo per Napoli dai tuoi lavori e quindi ho deciso di portarnele a casa. Cioè queste immagini certe volte mi danno la sensazione di aiutare realmente delle persone. Cosa è vero? Mia nonna ha fatto Miss Italia, non ha vinto insomma, però io discendo da una famiglia di donne molto belle io in realtà mi sono sempre considerata il brutto anatroccolo della casa e anche mia mamma ha fatto della propria bellezza buona parte della sua vita e tra l'altro era una cosa che io ho sempre vissuto in maniera piuttosto naturale anche se non mi sentivo all'altezza la vedevo come in un certo senso una qualità. e crescendo mi ha fatto molto male notare quanto in realtà questa bellezza per tante persone potesse essere un motivo di giudizio anche negativo, spesso negativo. quindi l'obiettivo, insomma io non voglio fare la palladina della giustizia penso che ognuna di noi, grassa, magra, alta, bassa, bella, con poca autostima insomma tutte noi abbiamo un modo di esistere che è unico e che dovremmo in qualche modo riuscire a rispettare e a difendere. io stessa penso di aver cambiato peso un milione di volte da quando ero ragazzina infatti buona parte delle mie madonne, soprattutto quelle che sorrizzono di più, spesso sono in carne proprio perché soprattutto nel periodo in cui le creavo affrontavo dei cambiamenti del mio corpo che non dipendevano da me e in quel periodo proprio ho imparato ad accettarli quindi forse in qualche modo si respira anche perché tante ragazze mi chiedono proprio di quelle immagini in particolare. forse il destino di questo progetto è almeno quello che io mi auguro quando sogno è che diventi più un movimento che un progetto mio mi piacerebbe poter raccontare, condividere tutti i punti di vista che mi sono arrivati e sono anche davvero poco gelosa, certo le mie madonne le ho fatte io però sarebbe bello se in tante avessero voglia di crearne una propria. grazie a tutti grazie a tutti